Miniera abbandonata, bello bello Questo è il livello per fucile a pompa Guarda quanto stretto, è tutto strettissimo Ma crepa E potevo usare... sapete cosa potevo usare? Potevo usare un sasso Prendiamo un sasso C'è uno con la motosega, lo sento Tiè Ok, sasso, arma di distruzione di massa Sasso, arma di distruzione di massa, mi sa, eh Ma la pistola non me ne faccio niente Ma non mi scassare le palle Ripeto, un sasso io me lo porto presso Non vedo niente Mortocci tua Ho visto gli occhi che sbruccicavano Prendo la roccia Ho una roccia, non ho paolo di usarla, eh Gli stronzi Che saltano fuori da... Tiè Dai uomo che ti vedo Ok, perfetto Perché c'è il livello al buio, porca troia C'è? C'è un altro con la motosega, aspetta un attimo Prepariamoci Ma da qua sono arrivato, aspetta un attimo Posso aprire questa? No, questa porta si apre da un'altra parte Mamma mia Mamma mia quanto oscuro però Non si vede una sega Se si vede ma... Cioè, vedete? È nero Nell'attimo... Cioè, gli faccio così non si vede niente È un po'... Che cazzonata di queste? Dobbiamo stare molto attenti con queste qua Ok, ecco la porta che si apre dall'altra parte La porta scorrevole si apre Scassa? Ma possibile? Perfetto, se tutto mi montoniamo indietro La porta era... Ma fa... C'era un fantasma 2D, l'ho visto! È qua la porta Ecco... No, 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 spesa E dopo facciamo così Vabbè, due colpi... Tre colpi di fucile a pompa... Dai, cioè... Tre colpi di... Doppietta... Un paio di colpi di doppietta servono C'è la chiave gialla è lì Posso aprire qua? Non lo so, non lo so... Cioè, io gioco... Io vado un fuori giro! Pezzo di merda! Fa il culo! Vuole che sparano una volta ogni morte... Perfetto, un secondo qua... Si muore! Ok Mortacci tua! Ecco dove saltano fuori... Crepa! Sentivo c'era un rumore di motosega da qualche parte Mortacci vostra! Ok, di qua c'è la porta gialla! C'è la porta... La chiave gialla! Quindi io prendo... Normalmente che non mi serve! La porta gialla era... No, c'è la chiave rossa! Dove cazzo è di qua la porta gialla? Un segreto! Ma non volevo un segreto io! Volevo la chiave gialla! Cioè, la porta gialla! Dove cazzo è? Di qua no! Forse... Forse un attimo... Di qua no! C'è il manikit! Qua serve la porta rossa! C'è la porta rossa? Dice un segreto! La... La musica è fortissima nelle mie orecchie! Ok! Ma... C'è ancora gente? E questo dove salta... E tu! Guardate dove saltate fuori! Dove saltano fuori questi? No! Paccatroia! Non c'è posto! Mortacci tua! Ho quasi finito le cose! E... Paccatro! Ho quasi finito le cartucce! Andiamo qua! C'è la vita! L'ho tenuta da prima! Ecco qua! Forse è il caso di camminare! Incredibilmente! Non l'avrei mai detto! Ho chiesto di camminare un po'! Di qua è l'entrata! Che cazzo è la pochia porta gialla! Sti stronzi da dietro! Veramente! Guarda! Questa è la porta gialla! Io apro eh! Mi prende per il culo! Mi prende! No! Fa culo vai! E che cazzo! C'era ancora viva era! Pezzo di merda! Ma guardate! Mi piglia per il culo pure! Guarda! Qua è tutto chiuso! Qua non c'è... Mi serve una po'... Sì ok! Si apre! Ma lo so che si apre! Ma devo capire dove cazzo andare! Perché la porta... La porta gialla non... Eh lo so! Ho la chiave rossa! Dove la trovo la chiave rossa però? Se la porta gialla è inagibile... Ma forse... Posso... Aspetta un attimo eh! Questo gioco mi percula ma io... Aspetta un attimo ecco il controllo! Di qua! Vai di qua! Mamma mia sti livelli! Mi fanno... Mi fanno venire la nausea! Veramente! Posso entrare? No! Dove cazzo devo... E perché siete qui voi altre? Mortacci tua! No! Crepa! Da dove arrivano? Perché è apparsa la chiave rossa? Non capisco ragazzi! Questo livello mi turba! Questo livello mi turba assai! Ma perché è comparsa la chiave rossa? Così a caso? C'è un power up! C'è un power up! E c'è tanta roba! C'è power! Crepate tutti! Pezzo di merda! Vieni qua! Andiamo a risparmio! Non mi interessa! Ok! Ma che cazzo? No! Ho quasi finito i colpi del fucile! Fantastico eh! Ok! Grazie! Cosa ho aperto adesso? Ho aperto lì! Finisci il livello! Finisci sto schifo! Mamma mia ragazzi! Allora ragazzi! Io in questo momento di... Daska mi scuso! Il tempo totale! 44 minuti di gameplay! Ho fatto 6 map! Se è piaciuto mi piace! Commentate e iscrivetevi! Ci vediamo! Al prossimo video!